Salve a tutti, sono Marco Casario, CTO di ComTest. Questa è la seconda parte dedicata al mondo e all'approccio del Responsive Web Design, ovvero la tecnica e all'approccio per creare web application indipendenti dalla risoluzione degli schermi all'interno del quale l'applicazione viene caricata, indipendente anche dal device. Nella prima parte che vi consiglio di vedere della nostra presentazione abbiamo parlato di alcuni tool che ci aiutano e ci aiuteranno durante la fase di sviluppo e di testing delle applicazioni con approccio responsive, invece in questa presentazione parleremo di alcune librerie, dico di alcune perché sono ormai davvero tante le librerie che abbiamo a disposizione e che troviamo su internet per lo sviluppo di applicazioni responsive. Mi concentrò in questa presentazione solo delle librerie che effettivamente rappresentano l'ABC, per così dire, dello sviluppo di web application per dispositivi mobili. In particolare vorrei partire proprio da qualcosa che non è una libreria, è a tutti gli effetti un template. Mi riferisco ad HTML5 Boilerplate, faccio molta formazione su HTML5 e sul responsive design e vi assicuro che questo rappresenta dal punto di vista didattico uno dei migliori modi per partire, soprattutto quando si è all'inizio. Cos'è Boilerplate? Boilerplate è un file zip che una volta scaricato e scompattato vi mette a disposizione un set di risorse HTML5, JavaScript e CSS che fungono da template, quindi da pagina bianca da cui partire per creare l'applicazione. Qual è il vantaggio di usare un template già fatto piuttosto che scriversi il proprio? Se siete dei grandi esperti già di sviluppo di HTML5, JavaScript e CSS, avrete sicuramente già il vostro template da cui partirete all'avvio di ogni nuovo progetto, se invece sono le prime volte che state approcciando sappiate che questo rappresenta un ottimo template che è effettivamente il risultato dell'effort di più di 100 sviluppatori diversi. Tutte quante le conoscenze quindi che questi sviluppatori hanno fatto sono state inserite all'interno di questo template. Io l'ho scaricato per voi, voglio mostrarvelo, ce l'ho qui sul mio desktop. Ecco qui che se aprite la cartellina di HTML5 Boiler Template, vedrete dei file HTML, dei file PNG, in particolare delle cartelline CSS, DOC, IMG e JavaScript, andiamoci ad aprire la cartellina index.html ed ecco qui un hello world, questo è il file, appunto il template, se io apro il codice sorgente vedete che all'interno del codice sorgente ci sono tutta una serie di caricamenti condizionali a seconda delle varie versioni del browser che sta caricando l'applicazione, abbiamo la gestione già della viewport di cui parleremo nelle prossime, nelle prossime presentazioni, che però è fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo per dispositivi mobili, abbiamo dei CSS già linkati e caricati che sono dei CSS di normalizzazione, ovvero dei reset, mi riferisco al file normalize.css, abbiamo dei file main.css che invece ci danno già un primo, dei primi stili tipografici da usare all'interno dell'applicazione, il template già importa alcune librerie javascript di ormai uso comune se sviluppate applicazioni con HTML5, mi riferisco per esempio a Modernizer di cui parleremo tra poco, abbiamo poi l'utilizzo del Chromeframe per permettere di utilizzare o di migliorare il supporto a funzionalità HTML5 che non vengono supportate in particolare da browser internet come Internet Explorer 7 e così via, abbiamo poi i caricamenti di Google Analytics, abbiamo la possibilità di importare leggi, query, veramente questo template rappresenta la base, il punto di partenza per cominciare poi a inserire i contenuti della nostra applicazione in un contenitore che già utilizza le best practices che vengono fuori da esperti sviluppatori che già lavorano in questo settore, quindi il mio consiglio è soprattutto all'inizio, se non avete la vostra versione di template con cui partire, questo HTML5 boilerplate, questo è l'indirizzo, rappresenta davvero un'ottima base di partenza. E vi do anche un altro link, è initializer.com, questo voglio farvelo vedere perché è molto utile, initializer vi permette di, lo voglio caricare, initializer.com, vi permette di avere dei, è un generatore di template, quindi per esempio se voi starei approcciando un'applicazione di tipo responsive, voi cliccate su responsive, decidete quali sono le librerie che volete importare, modernizer, HTML5, solo HTML5 shiv, respond.js che è una libreria javascript per il supporto alle media queries da browser vecchi che non supportano effettivamente le media queries, se volete importare jQuery, dei template già HTML5, c'è il mobile first responsive o c'è il responsive bootstrap, bootstrap è un framework CSS, è uno user interface framework realizzato dai sviluppatori che lavorano in Twitter, e poi tutta una serie di, vedete qui c'è l'HTML5 boilerplate, voi potete decidere di scaricarvi e a quel punto avrete la vostra configurazione. Anche boilerplate vi permette, boilerplate.com, vi permette di scaricare una versione, una custom build del browser che come vedete punta allo stesso indirizzo, ovvero punta a initializer.com, quindi quando cliccate su get a custom build verrete immediatamente ridiretti a questo sito. Parlando di librerie, l'abbiamo menzionata quando abbiamo parlato del template di HTML5 boilerplate e di initializer. Una delle librerie che più utilizzerete in progetti che utilizzano HTML5 e CSS3 è Modernizer. Modernizer è una libreria JavaScript che effettua e vi aiuta a fare il detect delle funzionalità supportate dal browser di HTML5 e di CSS3, visto che ancora non c'è ampio supporto a tutte le API di HTML5, che tra parentesi ad oggi è ancora in, non è ancora, non tutte le API sono state ancora chiuse e sono state quindi consolidate, è utilissimo, è fondamentale fare questo tipo di, questo tipo di, di compiere questo tipo di azioni, ovvero controllare che una funzionalità prima ancora di usarla sia supportata dal browser, altrimenti rischiamo che la nostra applicazione impedisca all'utente di poter portare a termine l'operazione. Come si utilizza Modernizer? È molto semplice, si importa la libreria JavaScript, si mette sul tag HTML l'attributo class uguale a Node.js, a questo punto quando l'applicazione viene caricata, se JavaScript è abilitato, Modernizer non farà altro che cambiare quel valore dell'attributo class Node.js in una lista di tutte quante le funzionalità supportate o non supportate dal browser. Quindi vedete qui sotto che quel Node.js diventerà, in un browser che ha JavaScript abilitato, diventerà, conterrà tutta una serie di valore, Canvas, Canvas Text, RGBA eccetera eccetera, e nel caso in cui le funzionalità non vengano supportate, metterà il suffisso no, vedete per esempio no geolocation, quindi vuol dire che il browser non supporta le funzionalità, le API di geolocation di HTML5. E questo avere già a livello di valori di una classe, il sapere quindi se queste funzionalità sono supportate o meno, ci permettono per esempio di creare comportamenti diversi a seconda del supporto o meno della funzionalità. Qui vedete del CSS, sono due classi CSS diverse, la prima classe punto no border radius punto box applica un border solido di un pixel nero a tutte quelle nel momento in cui il browser non supporta la funzionalità border radius, la cui classe invece è espressa sotto, subito sotto, vedete punter border radius punto box, aggiungesi il bordo di un pixel solido di colore blu ma questa volta utilizza la proprietà CSS3 border radius settata a 10 pixel. Quindi avere questi valori all'interno di una classe ci permette per esempio di utilizzare, di scrivere statement CSS3 come quelli che vi ho appena mostrato. Ma Modernizer ci permette in maniera ancora più semplice di fare feature detection e quindi vedete in questa condizione JavaScript controllo se Modernizer punto la proprietà che voglio controllare nel mio esempio local storage è supportata e quindi se questo valore torna true allora posso scrivere il JavaScript sapendo che il browser supporta la local storage altrimenti il browser non supporta i local storage, quindi scriverò la fallback JavaScript affinché l'utente non si trovi strani comportamenti o si veda non funzionare alcune cose. Quindi abbiamo l'oggetto globale Modernizer all'interno del quale possiamo andare a controllare il supporto di tutte le API di HTML5. Una cosa molto importante aggiunta recentemente nelle ultime versioni di Modernizer è la libreria yepnopjs.com. La libreria yepnopjs è una libreria che ci permette di effettuare il cosiddetto feature resource loader con Modernizer, quindi vedete che con il metodo load di Modernizer, quindi modernizer punto load, posso andare a dichiarare con la sintassi, la short syntax in JavaScript un oggetto che accetta tre proprietà, test, yep e nope. All'interno del, come valore queste proprietà prendono la proprietà test, prende il nome dell'API che voglio andare a controllare, che voglio andare a, per cui voglio andare a vedere se il browser garantisca il supporto. Ancora nell'esempio modernizer punto local storage, quindi sto andando a controllare se il local storage è supportato. Il valore nel valore yepnopjs metterò la libreria o la funzionalità JavaScript nel caso in cui il supporto esista, perché lo yep vuol dire yes in inglese, fondamentalmente, quindi c'è supporto a quella funzionalità. Il nope potrà, mi permetterà di andare a gestire l'alternativa JavaScript alla funzionalità dei local storage per browser che non supportano il local storage. Quindi questa è una libreria molto molto utile, noi la usavamo in passato al di fuori di modernizer, l'hanno inclusa in modernizer, quindi adesso potete effettuare con modernizer, con il metodo load, potete scrivere, fare feature resource loader, così come vedete su questa slide. Vi permette anche di dichiarare non solo un file JavaScript, ma addirittura di concatenare più file. In questo esempio sto controllando, sto testando il supporto al touch, quindi se il device che sta caricando la web application supporta il touch, è un device touch screen, in quel caso caricherò la libreria touch.js e il file smartphone.css, quindi utilizzo la short notation degli array per JavaScript e gli passo, separati da virgola, i valori dei file JavaScript e CSS che voglio caricare, molto comodo e molto potente. Bene, diciamo prima di concludere questa brevissima presentazione in cui veramente vi ho dato l'ABC per cominciare a lavorare su progetti responsive, presentandovi HTML5 Boilerplate, Initializer per fare custom build di boilerplate e la Modernizer, passiamo a qualche risorsa in modo tale che possiate nel frattempo approfondire, aspettando la pubblicazione della successiva presentazione dedicata allo sviluppo di responsive web applications e in particolare fatemi lasciarvi questo ed in particolare vi lascio questo indirizzo che è Media Queries, scritto, ve lo faccio vedere nel browser perché è sempre particolare doverlo dire a voce, è scritto mediaquery.es ed è un repository fondamentalmente, vedete un repository di siti, qui c'è il sito per esempio del WWF, siti responsive che potete andare ad aprire, è proprio questo il bello dell'approccio responsive, essendo dal punto di vista tecnologico HTML5, CSS3 e JavaScript non c'è codice compilato, il codice è quello che vedete andando a vedere il codice sorgente della pagina HTML, quindi potete aprirla, imparare, vedere come gli sviluppatori, i team di sviluppo hanno trovato delle soluzioni a dei problemi che sicuramente incontrerete anche voi, quindi uno strumento didattico importantissimo. Prima ancora il mio consiglio durante i corsi è sempre lo stesso, prima ancora di partire a sviluppare l'applicazione andate a vedere le decine e decine di siti che ormai sono responsive e capite che approcci sono stati utilizzati, che librerie sono state utilizzate, che cosa succede quando cambiano le varie risoluzioni, che pattern grafici vengono utilizzati, che user interface design pattern vengono utilizzati, veramente una libreria per imparare infinita e totalmente gratuita, quindi mediaquery.es è il primo sito, la prima risorsa che voglio darvi, poi se volete approfondire c'è stato pubblicato recentemente il mio talk che ho dato al CodeMotion qui a Roma e a Berlino, quindi se andare sul sito di CodeMotion, codemotionworld.com, entrate nella sezione di Roma, vedrete che c'è una pagina dedicata al mio talk e c'è il video sotto linkato di Youtube, sono circa 40-45 minuti di talk e parlo proprio di questo argomento. Un'altra community molto importante è HTML5 Italy, la community italiana dedicata ad HTML5, si organizzano eventi dal vivo e a distanza tramite conferenze, videoconferenze dedicate proprio agli argomenti, uno degli argomenti più gettonati è quello proprio dell'approccio responsive perché attualmente si può dire che è la buzzword del momento. Bene, io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione in cui andremo a parlare di mediaquery con CSS3 e vedremo un po' di codice. Grazie a tutti e a presto, ciao!